Via del mare, una strada di cui si parla da anni, una strada di cui non si può più fare a meno. A rilanciare il progetto di un'autostrada o comunque di una via ad alto scorrimento che porti turisti e vacanzieri sulle spiagge jesolane senza pesare sulla viabilità ordinaria è il presidente Luca Zaia. Già questo mercoledì l'assessore regionale infrastrutture e trasporti Elisa De Berti discuterà l'argomento nel corso di una riunione a Roma. L'assessore andrà a parlare ovviamente, a occuparsi di diversi dossier tra i quali c'è anche quello della via del mare come definita. Sicuramente è un sistema per risolvere il problema del caos, del traffico soprattutto nei mesi estivi per questo territorio. Al momento siamo in stallo, siamo in stallo per dei fatti giuridici e formali cercheremo di capire se questa è un'infrastruttura che si può sbloccare oppure no. Il vecchio progetto della via del mare con raccordo sul casello A4 di Meolo era stato archiviato dopo essere inciampato su un progetto di finanza inadatto e annullato. Ma interesse e sostenibilità per un nuovo tracciato, forse raccordandosi questa volta al casello di 90, ci sono tutti. Basta guardare le code chilometriche che si formano ogni estate in direzione del mare. Quest'opera che costa circa 200 milioni di euro, realizzata interamente dai privati senza nessun contributo pubblico, con i flussi di traffico, con quello che oggi il turismo è nel Veneto, ha una piena sostenibilità e quindi costerebbe zero alle casse della regione. Un alleggerimento del traffico che significherebbe anche un aumento della sicurezza, diminuendo magari la frequenza dei gravi incidenti che si verificano sulle strade che portano al mare. Come quello lungo la Treviso Mare, zona capossile, che ieri mattina ha coinvolto tre auto e ha provocato dieci feriti, cinque dei quali ricoverati in gravi condizioni. Poco dopo le 7.30, per cause da accertare, si sono scontrate una Mitsubishi Colt e una Renault Clio. Violentissimo l'impatto, con carambola e rovesciamento di uno dei mezzi sull'altro, ed un terzo, una Volvo, finito nel fossato.